Oggi è una giornata stupenda e ne abbiamo approfittato per prendere un po di sole al parco. Nell'occasione vi vogliamo parlare della Power Station R600, della Hall Powers. Questa Power Station portatile ha un inverter da 600 watt e una capacità di 299 watt ora. Ha una batteria LIFE PO4, un caricabatteria integrato e connettività bluetooth per il controllo remoto tramite app. Si ricarica da 0 a 100 per cento in un'ora tramite presa mentre tramite pannello solare in circa un'ora e mezza. Ha una protezione BMS avanzata con monitoraggio di tensione, corrente e temperatura per garantire che la batteria rimanga in buone condizioni. Inoltre una modalità UPS permette di utilizzarla con i dispositivi che necessitano di corrente in caso di blackout. La Power Station R600 è dotata di pulsanti fisici, utili per maggior controllo rispetto al touchscreen in caso si indossassero guanti. Ha due jack di uscita a corrente continua, una presa da 12V per auto, due porte USB tipo C da 100W, due porte USB tipo A da 18W e due prese di corrente alternata. Ogni sezione ha il proprio pulsante di controllo che permette di utilizzare solo i circuiti che servono. Ha una luce LED molto potente, un display facile da leggere, un pad di ricarica wireless e il manico che rende più facile il suo trasporto. Come dicevamo prima ha una capacità dichiarata di 299 Watt. Abbiamo voluto testare questa capacità collegando diversi dispositivi come computer, telefonini, carica batterie, GoPro e abbiamo constatato che è in grado di fornire dai 200 ai 250 Watt ora prima che l'unità si spenga con il 15% rimanente. Offre tre modalità di ricarica standard, silenziosa e veloce. Possiamo dire che la Power Station R600 è una soluzione compatta ed economica per chi necessita di energia fuori da casa. La All Powers offre soluzioni con diversi vattaggi fino a 4.000, tutti a prezzi di concorrenza. La R600 la potete trovare al prezzo di 249 euro e se utilizzate il codice sconto che trovate nella descrizione del video potrete soffrire di uno sconto del 10%. Adesso se non vi dispiace noi ci godiamo ancora un po' questo sole, voi invece se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, guardate i video, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete like e condividete. Alla prossima! si mangia, quando si mangia? unайт una persona che dimentica c'è la masca sulle a problemi, un' CHAP nos